Ora adesso rimuoverci nello spazio con la nostra camminata, quindi muoviamoci, non facciamo circoli ma cerchiamo di riempire gli spazi che rimangono buoni, ok? Ultimo esercizio, un esercizio sempre sulle emozioni, ok? Quindi coinvolgiamo il corpo e le nostre emozioni, allora si chiama i vesciolini, ok? Usando le nostre mani, prendete un po' confidenza con questi movimenti, abbiamo questa immagine, esatto, usando o una mano sola o una per tutte e due. Allora, questi sono dei vesciolini che nuotano, nuotano in tutte le direzioni, destra, sinistra, ok? Per adesso comunque coinvolgiamo le movimenti. Poi abbiamo sempre con le mani la medusa, ok? Va su, va giù, ruota attorno a me, ok? Perfetto, muoviamo bene le nostre dita così, descriviamo bene, perfetto, il movimento e poi abbiamo il totano, ok? Perfetto. Prendete confidenza con questo, quindi totano, pesciolini, medusa, perfetto. Adesso io vi dirò, con i vesciolini e metterò un'emozione, ok? Ottimo, pesciolini pantoliamo, sono benigliosi questi pesciolini, colorati, la mia figlia. Ok, ed infine tornoci a Parigi, quando ci parite sono loro. Grazie! 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 Grazie!